Una picca se ne vanno sopra le ciappe di tono e una poco se ne stanno chianando parrengata. Perché non scindono? Fulmento, farina, pure lo pane si fanno fare, pure lo pane. Mamma, pure una carosa se stanno rubando, madre! Era bella, mezzita, era bella con Mattia, due gocce di acqua. Lo sai, aveva 10 anni, io non ricordo che si faceva bello, chiudiavo. E poi, lo sai, aveva tre fragolini. Questa è la storia dell'omè paese. Paese.